signori buongiorno e benvenuti sul canale del master car io sono il master car il vostro ospite su questo canale nello scorso video quello sul d20 system abbiamo cominciato a parlare di come si costruiscono i png però non abbiamo detto come equipaggiarli questo perché è un discorso lungo che in realtà va al di là del sistema stesso si applica al d20 come si applica alla maggior parte dei sistemi che hanno una componente meccanica che comunque hanno una componente di equipaggiamento quindi mi è sembrato il caso di fare un video a parte qui per l'arte del masteraggio anche perché indipendentemente da quale sarà poi il sistema che effettivamente stiate usando ci sono una serie di linee guida e di principi generali a cui dovete attenervi e che dovete tenere presente quando costruite il mostro di cui andremo a parlare nel video di questa settimana apparentemente la questione dell'equipaggiamento dei png potrebbe sembrare banale ovviamente i png dovranno portarsi dietro tutto quell'equipaggiamento che gli permette di svolgere la funzione per cui sono stati introdotti nella quest il png combattente dovrà avere delle armi da usare contro i pg l'hacker dovrà avere il computer con cui infiltrarsi nella rete informatica lo scalatore dovrà avere l'attrezzatura da scalata e via dicendo apparentemente questo sembra un discorso molto banale fate però attenzione al fatto che ogni oggetto ogni equipaggiamento ogni cosa addosso ai png dovrebbe sempre svolgere una doppia funzione la prima ovviamente quella di permettergli di eseguire il compito che deve svolgere in quest ma la seconda e potenzialmente più importante è quella di permettere a voi come master di veicolare concetti magari anche lunghi e complessi utilizzando il minimo possibile di descrizioni cominciando le cose più semplici parliamo degli aspetti meccanici dell'equipaggiamento quando date dell'equipaggiamento a un png ragionate sempre su che cosa egli possa effettivamente tenersi addosso o comunque trasportare nella circostanza in cui verrà incontrato e che cosa è previsto che faccia con quell'equipaggiamento ricordate anche sempre che molto probabilmente tutto quello che c'è addosso al png in un modo o nell'altro finirà nelle mani dei pg quindi evitate di riempire i vostri tecnobarbari futuristici di munizioni e cibo se volete che l'approvvigionamento sia una parte importante della quest che state narrando allo stesso modo evitate di riempire il png con oggetti o combinazioni di oggetti che lo rendano troppo potente lo scopo della maggior parte dei png è quello di morire rapidamente per far sentire potenti gli avventurieri non quello di presentare una reale minaccia soprattutto non per quanto riguarda i propri possedimenti un png o un mostro che si porti dietro gli equipaggiamenti tali da essere molto difficile da sconfiggere o virtualmente non possibile da sconfiggere più che un incontro con un mostro dovrebbe essere trattato come se fosse un enigma con gli avventurieri che devono capire come si risolve il mistero del come facciamo uccidere il png questo genere di ragionamenti naturalmente ha senso solo per quanto riguarda i giochi fortemente meccanici il d20 system ovviamente quello più diffuso ma anche altri giochi e lo school hanno meccaniche simile se state far giocando un gioco più moderno comunque un gioco molto più importato sulla narrazione questi sono problemi che non dovete proprio porvi una volta risolta la parte meccanica dell'equipaggiamento dovete cominciare a pensare alla questione più importante cioè la funzione narrativa che quell'equipaggiamento avrà all'interno della storia cominciamo valutando i criteri di verosimiglianza e coerenza che quel pg e i suoi equipaggiamenti dovranno avere all'interno della storia ne avevamo già parlato in un altro video ve lo lascio come al solito qui sopra nel caso dobbiate andarvelo a rivedere l'equipaggiamento che un png si porta dietro deve essere sempre valutato nell'ambito e nella funzione in cui quel png esiste domandatevi sempre perché si porti dietro quegli oggetti e come ha fatto a procurarsi quegli oggetti anche in questo caso la cosa potrebbe sembrare ovvia l'uomo primitivo che vive dentro la caverna probabilmente avrà una clava non avrà un mitragliatore laser e gli alieni ultra tecnologici che vogliono invadere il pianeta difficilmente cercheranno di farlo utilizzando delle lance con la punta di selce anche se queste potrebbero essere le premesse per un'ambientazione particolare è veramente interessante fermatevi però prima a riflettere in che modo gli equipaggiamenti che quel pga potrebbero rendere sia più particolare sia fornire informazioni indirette sul suo tema e sull'ambientazione di cui fa parte questo servirà a rendere la narrazione più profonda ad esempio le varie fazioni all'interno della vostra ambientazione potrebbero differenziarsi anche in base alla scelta delle armi che utilizzino o del resto dell'equipaggiamento che utilizzano in base alla disponibilità sia economica che tecnologica di ogni singola fazione quando le armate di mercenari umani strapagati del malvagio barone marciano fuori dalla malvagia baronia per conquistare le terre circostanti i pacifici halfling che abitano la valle agricola saranno costretti a ritirarsi perché non hanno una tecnologia delle armi sufficiente e non possono competere direttamente con i mercenari umani equipaggiati di armatura d'acciaio e alabarda che invece possono permettersi grazie al finanziamento del malvagio barone gli halfling però per esempio potrebbero andare a nascondersi nei boschi e attuare tattiche di guerriglia utilizzando archi e frecce perché sono armi che possono costruire praticamente dal nulla utilizzando il legname del bosco quando invece le malvagie armate andranno nel territorio degli elfi questi opporranno una resistenza feroce perché nonostante gli elfi siano pochi ognuno dei loro guerrieri ha centinaia di anni di esperienza alle spalle e inoltre ognuno dei loro guerrieri è stracarico di armi e armature magiche più di quelle che ci siano nell'intera malvagia baronia messa assieme semplicemente analizzando quali saranno le disponibilità tecnologiche economiche delle tre fazioni di questa ipotetica campagna ci si è potuti fare un'idea di come funzioneranno i rapporti tra di loro e anche come potenzialmente potrebbe procedere la campagna avete elementi per dare profondità all'ambientazione semplicemente utilizzando una scelta diversa di equipaggiamenti in base alle fazioni del gioco ovviamente potete anche fare il ragionamento contrario cioè prima decidere come le varie fazioni fanno a procurarsi gli equipaggiamenti e poi decidere quale sarà la loro funzione all'interno della storia sostanzialmente è identico in entrambi i casi però i personaggi solo ascoltando la descrizione dell'equipaggiamento potrebbero cominciare a farsi un'idea di quali sono i rapporti tra le fazioni all'interno della storia in ultimo e questo è applicabile anche a quei giochi puramente narrativi in cui non è proprio previsto che ci sia un equipaggiamento un equipaggiamento e la sua descrizione potrebbe essere in grado di conferire al party informazioni sia sul png stesso sia sulla propria origine si immagino le vostre facce perplesse parlando in parole povere determinati equipaggiamenti o combinazioni di equipaggiamenti sono riconducibili facilmente a degli stereotipi di genere se riuscite a far passare questa immagine ai vostri giocatori potrete tagliare molto i tempi di descrizione un guerriero con uno scudo rotondo un'ascia e un pelliccione sulle spalle probabilmente rimanderà all'immagine di un guerriero vichingo e quindi la cultura norrena al contrario lo stesso guerriero con un'armatura laccata e ma una katana porterà in mente immagini del giappone feudale sono entrambi troppe e periodi storici sufficientemente ben conosciuti da chiunque quindi potete aspettarvi che li conoscano anche i vostri giocatori di conseguenza inserire determinati personaggi si porterà dietro tutta una serie di significati che non sono applicati solo a quel personaggio ma anche al contesto culturale da cui è preso i vostri giocatori dovrebbero già avere un'idea di cosa sia il giappone feudale e di cosa sia la cultura norrena quindi semplicemente descrivendo gli equipaggiamenti che un png che arrivi da un contesto culturale simile si porta dietro avete già indirettamente fornito tutta una serie di informazioni ai giocatori senza che voi le abbiate mai effettivamente pronunciate al tavolo e quindi risparmiando tempo ovviamente questo non riguarda solo gli stereotipi culturali ma a qualsiasi tipo di stereotipo e in linea generale a qualsiasi tipo trope andiamo avete davvero bisogno di vedere due trilogie precedenti per capire che questi sono i cattivi diciamo che per questo video è tutto facciamone durare uno una lunghezza diciamo decente per una volta ovviamente mi piacerebbe sapere da voi nei commenti qui sotto come voi gestite gli equipaggiamenti se usate questo metodo se ne usate un altro per quale motivo usate questo quest'altro o anche se non avevate mai riflettuto su questo aspetto il gioco se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master cae noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.